Benvenuti, cari follower, a questo nuovo e velocissimo video, attraverso il quale vi informeremo sulle previsioni meteorologiche più importanti in Italia per i prossimi dieci giorni prima di iniziare come di consueto. Non dimenticate di sostenerci con ammirazione per questo video e condividete con tutti affinché il beneficio si diffonda a Italia nei prossimi dieci giorni, precisamente a partire da giovedì 13 aprile 2023 fino al 20 aprile. Tutte le regioni settentrionali d'Italia. Per quanto riguarda le regioni meridionali, sono previsti alcuni sporadici rovesci di neve nell'ordine dei dieci cemme. Per quanto riguarda la pioggia, sarà presente e forte in tutte le regioni, da nord a sud, con quantità comprese tra i 30 a 100 mm localmente. Purtroppo, le isole della Sicilia e della Sardegna avranno piogge meno intense. Resta sintonizzato per maggiori dettagli in seguito e quando il periodo si avvicina di più e che tu possa essere sempre in buona salute.